Continuano i serrati controlli della Polizia Locale sulle strade del nostro comune, in particolar modo durante le serate nei fini a settimana per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Venerdì scorso le pattuglie hanno effettuato i controlli in via dell'Istria all'altezza del cimitero di Sant'Anna, in dotazione il Targa System, il Police Controller e il telelaser e l'etilometro. La Polizia Locale ha utilizzato per i controlli 4 pattuglie in macchine o furgone, 70 i veicoli fermati, 32 le autovetture, 10 i ciclomotori e 29 i motocicli. Tra i conducenti, 42 uomini e 29 donne. Complessivamente sono state elevate 15 sanzioni, segnalando le più gravi. 3 per guida in stato di ebrezza, il tasso alcolico maggiore è stato rilevato ad un uomo, BL e queste le sue iniziali, di 42 anni, alla guida di un'autovettura Fiat Punto con valori di 2,13 grammi per litro e che guidava un veicolo di sua proprietà, ritiro della patente di guida e sequestro ai fini della confisca dell'autovettura. Guida alterata dall'alcol ma con valori decisamente inferiori anche per altri due triestini, NF di 60 anni e PG di 70 anni. 6 sanzioni per mancata revisione del mezzo e 2 per mancata assicurazione con relativo sequestro di un'autovettura e di un nuovo motociclo. Purtroppo si continuano a rilevare sanzioni per mancata revisione del veicolo e per mancata copertura assicurativa, entrambe infrazioni estremamente gravi. Ricordiamo che la revisione e la copertura assicurativa certificano legalmente che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione al fine di proteggere se stessi e gli altri dai possibili danni causati dal proprio mezzo in un incidente, affinché tutti possano mettersi sulla strada, conducenti, passeggeri e pedoni in completa tranquillità.